Ciao amici appassionati di micromeccanica, vi voglio portare questa volta nel mio laboratorio per un viaggio che arriverà alla costruzione di un modello, di un modello meccanico partendo dal disegno arrivando al modello finito, si tratta di un motore a vapore, aria compressa, non particolarmente complesso da costruire per ragioni anche di lunghezza di videocorso, di filmati, sarà un videocorso fatto a puntate con tutte le varie fasi realizzative e vediamo come se sarà di vostro interesse una cosa di questo genere per cui si potrà proseguire eventualmente anche su progetti più complessi e quindi andremo a costruire questo modello eccolo qui, vedete, è un modello a singola azione partiremo praticamente dai disegni io ho realizzato e troverete anche questi disegni disegni questa volta fatti con un CAD e con le parti anche in 3D in maniera da capire assolutamente bene come sono realizzate le varie parti vedete, troverete anche questo disegno e dovremo partire praticamente da questi disegni realizzativi delle parti e arriveremo alla costruzione del modello completo come vedete in questo momento sarà un percorso che presenterà le volte difficoltà, le volte cose particolari e le vedremo tutte insieme e arriveremo ad avere il progetto finito penso che possa essere molto interessante questo tipo di videocorsi specialmente possano aiutare quella che è la missione del sito www.bgmodels.it è quello di far conoscere questo modellismo meccanico diffusissimo in altri paesi, in Italia molto meno e quindi cercherò di dare il mio contributo a questa causa diciamo così grazie a tutti